Cari amiche e cari amici, un estratto di un articolo di Roberto Bonuglia, titolo Tre mesi di Covid-19, la pandemia tra scientismo e deriva tecnocratica. Sono passati tre mesi dalla conferenza stampa a margine dell'incontro con il primo ministro bulgaro Boiko Borisov, durante la quale Giuseppe Conte dichiarò Non siamo preoccupati, ma siamo assolutamente vigili e prudenti. Già adesso, senza necessità di diffondere allarmismi o forme di panico, stiamo adottando tutte le iniziative e le cautele per fronteggiare nel modo più efficace i rischi connessi al virus. Beh, non è andata proprio così. Il governo italiano ha fatto moltissimi errori, sottovalutato il problema per ragioni ideologiche e mentre i governatori di Lombardia e Veneto avevano chiesto di chiudere tempestivamente le frontiere, l'esecutivo ha ridicolizzato il loro operato, accusandoli di razzismo, laggiando slogan del tipo «Abraccia un cinese, Milano riparte!» Così facendo, il governo ha perso tempo a strimpellare la sua lira mentre Roma bruciava. E i fatti gravi sono due. Non sapeva di stare a strimpellare, ma non sapeva neppure che Roma stesse bruciando. In quei giorni, strategicamente cruciali per la lotta al Covid-19, infatti, gli antifascisti del sushi preferirono elevarsi a novelli Don Ferrante, ritardando l'attuazione delle misure sanitarie necessarie, paralizzati dal timore di passare per razzisti. Un ritardo che abbiamo pagato a caro prezzo e non abbiamo mai recuperato. Due esempi su tutti. Più volte annunciato e rinviato il decreto aprile arriverà a maggio. E il modello Italia, sbandierato a 4 venti da Conte, è stato demolito punto per punto dal New York Times, diventando semmai quello delle cose da non fare. Tra esse, la prassi tutta italiana, caratterizzante la fase 1 della pandemia, è deflagrata nella fase 2. La resa delle istituzioni democratiche allo scientismo degli esperti e delle tax force nel corso di questi mesi, infatti, hanno gestito l'emergenza Angelo Borrelli, Domenico Arcuri e Vittorio Colau. Ma nel contempo è profiliferato all'ombra dello scudo penale un fitto sottobosco di specialisti ben più folto e rigoglioso, come evidenzia la recente creazione del sedicesimo gruppo di esperti, stavolta nel tentativo di sbloccare la liquidità per famiglie e imprese. Ecco, si aggiunge alle 15 diverse cabine di regia nominate in questi mesi, formate ormai da circa 450 esperti. Nel frattempo, continuiamo a non sapere quando terminerà il coronavirus e, ad oggi, possiamo solamente speculare sulle sue conseguenze economiche e politiche, lo scriveva un mese fa Ivan Krastev, ma il politologo aggiunse un particolare degno di attenzione. Le epidemie sono degli eventi, non delle tendenze, che mettono sotto pressione le società in cui si diffondono, questi sforzi evidenziano delle strutture latenti che altrimenti resterebbero nascoste. La pandemia ha palisato sia le inefficienze dei diversi governi, sia i ritardi delle burocrazie europee, ma anche un altro aspetto rilevante. Ci riferiamo all'onnipotenza dell'economia che ha contraddistinto il trentennio della globalizzazione come qualcosa di ideologico. Ci è stato raccontato per anni che i governi nazionali non potevano più decidere, era la finanza che doveva decidere tutto, perché mancavano le risorse. Si è visto poi che i governi nazionali sono in grado di nazionalizzare, che i soldi per finanziare gli ospedali ci sono, ma non lo fanno perché una parte della classe politica europea, alcuni partiti sia di sinistra e di destra, sono legati al mondo della finanza. Stati Uniti, Giappone, Cina, Germania, Regno Unito, Francia, Italia sono tra i dieci paesi più colpiti al mondo della pandemia. Non a caso le loro economie sono leader a livello mondiale e rappresentano insieme il 60% del prodotto interno lordo globale, il 65% della produzione manifatturiera, il 41% delle esportazioni manifatturiere del globo. Quando queste economie starnutiscono, il resto del mondo prenderà il raffreddore. Il motivo? Negli ultimi 30 anni l'estensione delle filiere produttive su scala globale ha reso i destini di queste economie strettamente legate tra loro. Una serie di fattori di stampo tecnologico, politico, istituzionale ha incoraggiato le imprese a frammentare al livello internazionale la loro filiera produttiva, promuovendo la delocalizzazione di impianti industriali, l'esternalizzazione di ampie fasi della produzione dei prodotti e il ricorso a fornitori indipendenti localizzati all'estero per l'approvvigionamento di beni intermedi necessari al processo produttivo. Ecco dunque che emerge l'anima mundi del villaggio globale, lo scientismo, inteso come derivato ineludibile di un'economia divenuta ideologia, che ha perso la sua naturale vocazione di problema di dislocazione delle risorse, per diventare una logica per la gestione societaria. Insomma, l'economia si è progressivamente evoluta pericolosamente in una concezione del mondo univoca e in una tecnica di controllo e di dominio. L'economia come ideologia è la risultante della pretesa della stessa economia di esercitare il predominio sulla cultura e sulla politica, imponendo su esse il suo modo di percepire la realtà, di pensare la realtà. Ciò poteva avere delle conseguenze arginabili finché la società avesse continuato a essere un insieme relativamente omogeneo con un forte contenuto comunitario, ma la destoricizzazione della cultura, la fine dello Stato-Nazione, la liquidazione della tradizio, le migrazioni imposte dalla globalizzazione, il connesso neoliberismo e la contemporanea alienazione tecnologica, ecco tutto ciò ha liberato il contenuto ideologico presente fin dalle origini nelle teorie economiche, dal condizionamento dei fatti e dai limiti imposti dal sociale. Appare evidente dunque quanto la sottile linea che divide la politica dei competenti e la tecnocrazia non si sia infranta in questi tre mesi, ma negli ultimi trent'anni. All'inizio degli anni Ottanta del Novecento, ad esempio, in Italia l'affascinante elaborazione politico-sociale post-ideologica dell'alleanza tra merito e bisogno partiva dal presupposto che le donne e gli uomini di merito, di talento, di capacità sono le persone utili a sé e utili agli altri, coloro che progrediscono e fanno progredire un insieme a un'intera società, con il loro lavoro, con la loro immaginazione e creatività, con il produrre più conoscenze. Peccato che fosse un'altra diametralmente opposta alla strada intrapresa da quelle strutture latenti cui fa riferimento Krastev e che hanno governato per decenni la globalizzazione, ben attente a tenere distinto il merito dal bisogno, creando ad hoc una società in preda allo scientismo, nella quale donne e uomini immersi nel bisogno sono le persone che non sono poste in grado di essere utili a sé e agli altri, emarginati o dal lavoro o dalla conoscenza o dagli affetti o dalla salute. È stato realizzato un mondo del bisogno che ha sommato vecchie e nuove povertà sotto la regia di quell'élite le quali progressivamente sono riuscite a controllare tutti i mezzi di informazione, il sistema scolastico, giudiziario, politico, sanitario, riuscendo a centrare un obiettivo impensabile. 7 miliardi e mezzo di persone si sono lasciate schiavizzare da poche decine di multimiliardari che si sono impadroniti di tre quarti della ricchezza mondiale. Il covid-19 non ha fatto dunque che palesare il mutamento in atto da decenni. Un tempo agli stati bastava controllare il territorio per controllare la ricchezza, esercitando il loro monopolio politico, battere moneta, fare giustizia, riscuotere tasse. Ora non è più così. La catena politica fondamentale, la catena stato-territorio-ricchezza, si è spezzata. La globalizzazione ha sottratto il processo economico al contesto politico costituito dallo Stato, consentendogli di svolgersi fuori dalla giurisdizione fiscale di ogni specifico Stato. e così colossali flussi di risorse finanziarie sono stati raccolti, investiti, spostati su tutta la superficie del globo e molte attività vengono portate lontano dalle sedi centrali. La velocizzazione di questo processo durante gli anni dell'utopia e della globalizzazione è frutto di un progetto che viene da lontano, da molto lontano. Lo conferma l'evoluzione politico-filosofica di una certa parte della tradizione illuminista, razionalista, nello scientismo, nel positivismo, nel materialismo storico, in alcune di quelle concezioni, idee e visioni che avrebbero contribuito a preparare nel corso della storia il terreno ai sistemi liberticidi del Novecento. Lo scientismo di oggi, quello delle tax force, discende quindi da quello illuminista, fondato anch'esso sul monopolio della ragione e delle scienze naturali, le quali affermano la validità di un'unica idea a scapito della tradizione culturale umanistica e di un metodo esclusivo per comprendere la realtà, puntando a realizzare un ordine politico perfetto nel quale non va spazio per la rappresentatività, la sovranità nazionale, l'identità e la cultura tradizionale. Il punto cruciale di quest'analisi ci conduce alla più profonda tendenza del pensiero occidentale, il processo di progressiva secolarizzazione, ossia di negazione della trascendenza, che caratterizza l'età moderna e contemporanea. Un modello che comporta il primato dell'economia, intesa come ideologia, e una serie di trasformazioni che si sono consumate nella struttura sociale del mondo occidentale nel XIX e XX secolo, come preludio di quanto abbiamo visto accadere nel III millennio. Altro che alleanza tra merito e bisogno, dunque. Tenendoli tali valori ben distanti, il riformismo moderno dell'elite progressiste è degenerato in opportunismo, riducendosi inevitabilmente in tecnocrazia. Lo scientismo si è imposto sostituendo la realtà sostanziale con quella fenomenica, riducendo la complessa realtà individuale e sociale ai soli elementi immanenti, privando di validità quel tipo di conoscenza che per sua natura contempla invece la dimensione metafisica e spirituale del mondo. L'esito di una ragione così modulata è stato disastroso, sia epistemologicamente, sia politicamente. Questo tipo di razionalismo monistico presuppone di possedere un'intelligenza superiore e in grado di conoscere in via assoluta e definitiva la totalità delle cose esistenti. Ne consegue che, per mezzo di un atteggiamento mentale onnipotente e totale, tenta di porre ordine nel mondo, forgiandone uno nuovo, in dettaglio e imponendo un'unica ragione sulla realtà politica. Il progetto realizzato dalle elite tecnocratiche è delirante in quanto produce una nuova scienza che, esplorando solo il mondo fenomenico e le relazioni tra fenomeni sensibili, pretende di conoscere le leggi universali della realtà naturale, sociale e politica. Da tutto ciò non può che scaturire una società naufragata, de facto, in un nuovo totalitarismo alimentato da sistemi logici che ridisegnano scientificamente una società scevera da difetti, nella quale l'analisi critica e la riflessione teorica sono sostituite da un'ideologia economica e da una scienza politica che accumula fatti riducendosi a doxa, neutralizzando gli aspetti fondanti dell'esistenza che, non a caso, corrispondono, in una diabolica eterogenesi dei fini, all'elenco dei divieti che ci ha imposto il lockdown di questi mesi. Bene, cari amici e cari amici, pollice su per il mio lavoro, sempre inchiodati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.